benvenuti a lecce vi presento la mia città capitale del salento l'usule l'umare l'uientu la città dello stile barocco e soprattutto la città del grande maestro ferdinando de giorgi andiamo alla scoperta adesso del barocco leccese all'interno di queste possenti mura potete vedere ma ma chi mura con la città alla domanda si possono attraversare i binari devi rispondere ciao 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 Grazie a tutti.